La città di Monselice ospita ancora una volta una delle tappe del concorso nazionale di bellezza e simpatia Miss Mamma Italiana. Siamo precisamente al Blue Dream Hotel nella ridente località della città della Rocca. E in mia compagnia il patron del concorso, giunto alla sua ventunesima edizione, Paolo Teti. Una bella manifestazione ancora una volta nella città di Monselice. C'è un complimento a Cinzia Sguotti e a tutti coloro che hanno creduto a questo appuntamento in questa splendida struttura. Splendide mamme, ancora una volta abbiamo avuto il piacere di avere in nostra compagnia delle dolcissime mamme venete. Ricordo che Miss Mamma Italiana è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alla figura della mamma. dedicato a tutte le mamme italiane che hanno un'età compresa tra i 25 e i 45 anni per la fascia Gold 46-55. È un gioco, ma è un gioco che fa divertire migliaia e migliaia di mamme in tutta Italia. Le vincitrici delle selezioni, come quella di Monselice, avranno il diritto di accedere alle pre-finali nazionali in programma il prossimo anno nella riviera romagnola, nella città di Gatteomare. Per cui un appuntamento che si rinnova con grande successo di anno in anno è un grande successo, lo abbiamo vissuto ancora una volta qui nella città di Monselice.